Si è tenuto oggi a nuoro nella sala conferenza della Camera di Commercio il secondo dei sei moduli in cui si articola il corso di formazione ICF sulla classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute. Si tratta di un corso di alta formazione inserito nel progetto Il Villaggio Educativo, che è stato promosso dalla Scuola di Dottorato in Scienze Sociali, indirizzo a fondamenti e metodo delle scienze sociali e del servizio sociale dell'Università di Sassari. Tra i sostenitori dell'iniziativa, la fondazione del Banco di Sardegna, diverse amministrazioni locali come la provincia e il comune di Nuoro, il liceo sociopedagogico SATA del capoluogo e l'istituto comprensivo di Furredo, ma anche l'UNICEF. Il corso in programma oggi nel capoluogo barbaricino era rivolto a genitori, insegnanti di ogni ordine e grado, medici, psicologi, pedagogisti, educatori, professionali, logopedisti, assistenti sociali, ma anche al mondo delle associazioni. Relatore del corso, il professor Luigi Croce, insegnito di numerosi riconoscimenti internazionali per il suo contributo al mondo della disabilità intellettiva ed evolutiva. Tra gli interventi anche quello della professoressa Federica Di Cosimo, esperta in bisogni educativi speciali. Il progetto Il Villaggio Educativo, processi di promozione della partecipazione sociale e comunitaria del benessere individuale e comunitario, sottolinea una nota, nasce nel 2009 come progetto tesi di ricerca di Stefania Polco all'interno dell'Università di Sassari. Il Villaggio Educativo, continua la nota, considera come suo obiettivo principale la promozione della salute e il benessere delle persone e delle comunità. Attraverso la creazione di alleanze educative territoriali, si tenta di avere una lettura multidisciplinare dei disagi e delle cosiddette emergenze educative.